ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale ancora una volta e di nuovo in questo mese di aprile 2021 ambostar va a stravincere l'ambo secco a ruota secca un ambostar che vi ho ripresentato come giocata per il mese di aprile purtroppo tante visualizzazioni sul video ma pochissimi di voi si sono portati a casa questo ambo che per due mesi consecutivi è stato un po snobbato e ha vinto nell'estrazione del 20 aprile l'ambo secco 21 80 sulla ruota di venezia ambostar è una giocata molto potente che io vi consiglio di prendere ogni mese due soli ambi su quattro ruote unica giocata mensile che poi sarebbero tre ruote più la nazionale che alla fine dobbiamo metterla per forza perché una volta a parte e quindi in realtà sarebbero due ambi su tre ruote più la nazionale 21 80 venezia guardate qui la testimonianza vincente ambosecco 30 aprile 20 aprile scusate 21 80 il mese scorso e potete andare sul mio canale quando ho pubblicato il video di questa vincita 28 52 sulla ruota nazionale sempre ambostar 20 marzo coincidenza ha vinto il mese scorso il 20 marzo e ad aprile il 20 aprile quindi nella stessa data quindi cari amici che dirvi questo questo sono due ambi da non perdere ambostar ha vinto due ambi in due mesi consecutivi 28 52 nazionale il 20 marzo e 21 80 venezia il 20 aprile questa è una previsione che vedo in modalità vincita venuta quindi prenotatevi già per la previsione di maggio perché a maggio andiamo a realizzare un altro ambosecco vi lascio in descrizione il mio indirizzo mail oppure contattatemi via whatsapp come sempre al numero che ve lo lascio anche in descrizione 348 75 47 715 per prenotare l'ambo star due soli ambi tre ruote più la nazionale quindi grandissima giocata ristrettissima perché parliamo solo di due ambi e avete visto come questa previsione è andata a pagare ben due mesi consecutivi mi dispiace che pochi di voi hanno vinto questi ambi in relazione anche poi in confronto a quanti hanno preso visione del video di presentazione quindi mi auguro che ci sia più riscontro in modalità vincita avvenuta su questa previsione perché è una previsione mensile che ci dà una probabilità altissima di centrare l'ambarruota l'avete visto con due ambi in due mesi consecutivi 28 52 nazionali il 20 marzo 21 80 venezia il 20 aprile ci ripariamo per il mese di maggio perché chiaramente ad aprile ha già pagato e mi raccomando vi consiglio caldamente di non perdere ancora ambostar perché ha dato già due vincite consecutive in due mesi quindi mi raccomando a non perdere la previsione per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto